La lezione di Valeria è un'idea che ha forward di promozione e produzione di arte e di azioni per artisti, non solamente per le opere. Però quello che diceva Valeria all'inizio è giusto, ma forward lo declina anche in un modo differente, ovvero una delle prime slides, se vi ricordate, è quella che per essere un artista bisogna essere anche un po' un imprenditore, bisogna sapersi, banalmente, nemmeno sapersi vendere perché l'imprenditore non fa questo in realtà, bisogna avere un progetto o più progetti e la capacità di farli fruttare. Io credo che questa lezione di oggi vi insegnerà, attraverso alcune elucidazioni su quello che è per noi forward il crowdfunding, a essere un buon imprenditore, cioè a qualcuno che non solo pensa a sé, ma pensa anche a come questa cosa possa aiutare la comunità che vi circonda e in generale la società, che abbia un'incidenza, che la vostra opera, che il vostro prodotto, chiamiamolo così, che il vostro sia anche qualcosa di pubblico, ovvero di condivisibile, ecco, in questa accezione. Prima di tutto però, per parlarvi di quello che è il modello di forward, che cos'è forward? Tutti potrebbero dire un progetto di crowdfunding per l'arte, che ha realizzato una serie di, che ha portato a buon fine una serie di percorsi che hanno prodotto opere, opere legate a un territorio, opere legate a una partecipazione sociale e cittadina forte, con sociale non intendo il servizio sociale come noi intendiamo i servizi sociali, no? Il sociale è tutto quello che è appunto spazio pubblico e condiviso. Però volevo prima fare un pre, fare un pre e spiegarvi perché abbiamo voluto tirar fuori questo nome e tirar fuori quest'idea di forward, eh? Quindi questo corso sarà complementare al corso più, diciamo, individualistico, no? Di Valeria, ecco. Qui ci apriamo, ecco, ci apriamo. Vi farò leggere e commenteremo una prima definizione di forward, perché nel progetto forward una cosa importante era non l'artist statement, ma il forward statement, cioè chi siamo e che cos'è forward, che tipo di, diciamolo, che tipo di processo, che tipo di servizio è forward, perché alla fine è quello che vogliamo essere. E ovviamente penso che voi siete venuti qua anche per sapere un po' di più di crowdfunding, eh? Di crowdfunding però legato a cosa? Legato all'arte, eh? Legato all'arte. Che crowdfunding per l'arte, queste due cose assieme, in realtà, ecco, bisogna vedere anche lì come, come, come stanno assieme, perché in realtà non è detto, eh? L'arte e il crowdfunding per molti anni sono stati assieme come stavano assieme realizzare un nuovo software, il crowdfunding. Cioè, l'arte era semplicemente un'applicazione in più del crowdfunding. Invece, il crowdfunding per l'arte, per noi di forward, è un'altra cosa. E quindi poi faremo una pausa, insomma, discuteremo un po' a seguito di questa breve storia e poi parleremo di perché forward invece del crowdfunding generalista, cioè quello che normalmente noi forse frequentiamo. Kickstarter, Apple, la piattaforma di crowdfunding dove non abbiamo solo la produzione di libri, il libri oggetto, CD, festival, no? Ma c'è anche, se prendiamo per esempio Kickstarter, no? Produzione di oggetti che non hanno niente a che vedere con l'arte. Ok? Non è, il crowdfunding non è nato e non nasce solo per progetti artistici, anzi, ne è ben lontano, a nostro avviso. E quindi bisogna indirizzarlo. E poi vi farò vedere cosa è, fuori, guarda in senso che cosa ha prodotto, che poi fondamentalmente è quello, perché anche per il discorso dell'artist statement, se noi facciamo un bellissimo artist statement e poi non produciamo niente, possiamo essere bravi teorici, ma bisogna anche metterle in pratica, le idee, ecco. Andiamo un po' velocemente, eh? Tanto qui le due fotine. Avete già conosciuto Valeria, ora conoscete anche me. È importante per forward sapere che forward è nato in, come un ibrido tra Valeria e me. L'idea di forward è mia e di Valeria Faril. L'inizio, poi ci sono state tante collaborazioni, collaboratori più o meno vicini, diciamo, al centro, al cuore di forward. E Valeria è appunto, lo sapete già, è art manager, ex scultrice, diciamo, anche se spero che prima o poi continuerà, ecco. E ha lavorato in ambienti diversi, italiani, messicani, musei, gallerie. Io invece ho una formazione più da umanista nel senso letterato, sono scrittore e professore di letteratura. Infatti, se voi guardate che cos'è forward, una delle prime definizioni era mecenatismo collettivo per arte e letteratura. Abbiamo pensato che in realtà, in realtà, con il termine arti possiamo includere tante cose, no? Però principalmente abbiamo iniziato in arte contemporanea e scrittura contemporanea perché ci piaceva questo binomio. Questo binomio tra, diciamo, quello che è la performance, l'installazione, anche la produzione di singole opere e dall'altro la narrazione. Perché? Poi vedremo perché. Queste doppia identità, in realtà, ci ha aiutato per tanti motivi. Sia perché avevamo, appunto, esperienze nell'organizzazione di mostre, nel Valeria, specialmente, nel counseling per artisti, cioè nell'art management. E un elemento importante per me è anche quello della formazione, perché vedremo che quando noi andiamo a costruire un progetto di crowdfunding, voi andrete sia come curatori, che, ripeto, questo è un corso per curatori, per artisti, per vari soggetti legati al mondo, quello che è il calderone dell'arte. E forward è un metodo, è un modello che potete applicare sia come curatori che come artisti, cioè quindi in qualche modo come curatori di voi stessi, no? Persone che devono avere un percorso, un progetto necessariamente secondo noi, poi possiamo discuterne. Non crediamo in forward all'ispirazione romantica, in un certo senso. Quindi la formazione è un elemento importante perché vedremo i progetti di crowdfunding che forward, diciamo brutalmente, approva o crede che siano progetti per l'arte forti, sono quelli in cui l'artista, in cambio di donazioni, offre quelli che si chiameranno, lo vedremo meglio, rewards, oppure premi, chiamateli premi. A seguito di una donazione, voi offrite come artisti che cosa? Un'esperienza che può essere materiale, un pezzo dell'opera, se siete un musicista, un CD, no? Mi aiutate a fare la produzione di questo CD e come premio chi dona brutalmente 20 euro in su ha una copia, magari autografata, del mio CD. O magari può essere anche, questo è un elemento nuovo di forward, un'esperienza formativa. Cioè voi potete aprire, per esempio, il vostro studio e dire se voi avete permesso alla mia opera di andare avanti, questo cosa vuol dire? Io posso aprire il mio studio e farvi vedere quello che sto facendo. Quindi in questo senso l'esperienza formativa, non che vi mettete in cattedra, dite io vi insegno che cos'è l'arte. Io ti incontro, ti incontro, donatore, sostenitore, ti incontro e ti do un po' del mio tempo. È una specie di un po' banca del tempo, però sbilanciata, perché comunque voi avete ricevuto una donazione materiale economica. Quindi questa parte della formazione teniamocela a mente. Una delle cose che appunto ci piace, lo stesso di forward, che non è solo un modello in cui voi potete presentare progetti di arte e letteratura, ma potete produrli. Che insomma, produrre oggi arte così, con dei soldi che arrivano in maniera collettiva o comunque vedremo da varie parti, non è scontato. Molti artisti che io conosco, solo a un livello molto alto, hanno una galleria, hanno un museo che permette la produzione. Molto spesso si inizia sempre con i nostri soldi. Invece, il momento della produzione via forward, secondo me è importante. E ricordatevi anche, se volete, l'esperienza internazionale. Chi siamo noi? Allora siamo all'interno di forward, principalmente dei curatori, perché curatori direi anche selezionatori, perché una delle utopie di forward come piattaforma, come organizzazione di crowdfunding per l'arte, è quella che poi, in qualche modo, la grande utopia che tutti noi abbiamo, per cui i selezionatori spariscono. Cioè, il sistema diventa talmente attivo per cui si autoseleziona la qualità. Si autoseleziona non solo la qualità, e vedremo come. Quindi, noi siamo dei curatori, siamo dei formatori, nel senso che siamo interessati anche a diffondere quello che gli artisti fanno e a includere i fruitori. Quindi è importante aver presente, anche voi, chi sono i miei fruitori? A chi mi rivolgo? Queste sono domande che non sempre un artista si fa. E a noi interessa arte che, come dire, a fronte di un circuito dell'arte che è spesso frammentario, fatto di nicchie, conoscenze, amicizie, sia il più possibile inteso come, invece, come un bene comune. Bene comune da, potremmo dire, da condivitare, da scambiare. Perché? Perché cosa fa in genere l'arte un artista? O ha due papà. Può avere un papà privato o può avere un papà pubblico. Può aspettare che lo Stato elargisca qualche fondo in un progetto. Oppure può aspettare che qualche sponsor, qualche macro-mecenate, no? Quelle che chiameremo macro-mecenate. Qualche amico di amici che magari è una grande fabbrica e vuole comprare opere, oppure le vuole produrre, chissà, questa utopia, vi coinvolga. E voi siete tutti contenti. Ma in realtà né questo né quest'altro vogliamo. Perché? Perché da un lato, se voi vi affidate a un privato che ha altri interessi, c'è sempre un doppio fine, in un certo senso. C'è sempre un'ingerenza in qualche modo. Se voi fate un'opera sponsorizzata to cure, in Italia, ma anche all'estero, forse più in Italia, perché non c'è proprio un meccanismo che poi andremo a vedere, è il rischio che voi fate un'esposizione, un'opera con sotto il marchio delle scarpe. Ok? L'altra è che voi fate un'opera molto, con pochissimi soldi, con sottoscritto grazie al comune di... Va bene? Quindi noi cerchiamo di evitare entrambe le cose. Bene. Allora, ora entra la parte difficile, in un certo senso. Capire come funziona il nostro modello, il nostro processo, che è, ripeto, è un'applicazione del crowdfunding all'arte. Allora, innanzitutto vi dico perché forward. Forward non è un nome così che ne abbiamo scelto a caso, perché forward in inglese significa varie cose. E ci piaceva proprio questa peculiarità, insomma, ecco. Significa mandare avanti, quindi diffondere, ma mandare avanti noi in italiano intendiamo anche, un po' sostenere, quando si dice mando avanti la baracca, no? Non è che la diffondo, c'è proprio un sostegno, no? Per farlo. Ma voi, quando usate le vostre email, usate forward, quando voi, appunto, indirizzate a qualcuno una notizia importante. Quindi, in qualche modo, l'idea che la vostra arte deve essere sempre focalizzata a un territorio, a un pubblico, ok? Deve essere fruibile e radicale. Radicale in quanto legata in profondità a un territorio e fruibile in quanto ci sono tanti attori attorno, specialmente i cittadini. Ecco. E ovviamente forward, quasi nessuno lo sa, significa anche sostenere, addirittura sostenere economicamente. Anche qui, sostenere, potremmo stare delle ore a discutere sul fatto che in italiano si dice sostenere quando tu sostieni un'idea. Tu la sostieni, l'argomenti. Oggi faremo anche, come dire, l'argomentazione, che ha degli elementi economici e no. Cioè, ha un elemento di, questo è il mio progetto, io voglio fare un cd, voglio fare una scultura, ok, dove la faccio, come la faccio, perché la faccio, per chi la faccio e i miei costi. Che è una progettazione semplice, ma essendo nuova in un certo senso, essendo un po' ibrida, perché sostegno dal basso, cioè dai cittadini, rewards, cioè premi formativi. Insomma, c'è bisogno di pensarci un po' di più. Non è il classico, voglio fare una scultura, ho bisogno di questi materiali, ho questi soldi, ho queste spese, punto. No. Ecco, c'è un po' da lavorare un po' di più, ecco. Come avete capito, queste due lezioni vi fanno uscire forse di qui, con l'idea che il lavoro dell'artista non si limita a fare l'artista. Il che non vuol dire, ecco, non dimenticare di fare l'artista per fare il pubblicista, per fare qualcuno che fa solo public relations, no? Cioè, a volte succede. Allora, vi leggo la definizione di cosa è Forward e poi ci soffermiamo sui vari elementi. Allora, Forward, una piattaforma di mecenatismo collettivo che produce e promuove arte e letteratura contemporanea. Poi c'era una domanda. Come funziona? Artisti e scrittori presentano progetti site-specific, legati ad un territorio e alle sue tematiche salienti. Cosa accade poi? Si promuoverà il crowdfunding online dei progetti selezionati per qualità, sostenibilità e valore di impatto sociale. Già, tre elementi che non sono uno solo. Non perché la mia statua è più bella di un'altra, ma perché a questi tre elementi, specialmente parleremo di qualità, chiederò a voi che cos'è, la qualità, anche qui è una voragine, no? Però vedrete che in realtà la qualità può essere legata agli altri due termini. E infine, i progetti dovranno avere, infine, ma non ultimo, ma non meno importante, i progetti dovranno avere un ritorno collettivo, materiale o formativo per i cittadini e la comunità che li ospiterà. Ripeto, voi che mi chiedete che cos'è il crowdfunding, potete uscire da questa stanza e dire non mi interessa, continuo a usare il crowdfunding così com'è. Cioè, presento il mio progetto, dico io voglio fare questa installazione in questa galleria nel giorno tal di tali, ho bisogno di questi soldi, aiutatemi. Se voi siete persone che hanno tantissimi amici, funziona. Se voi siete persone che, magari non seguendo i consigli di Valeria, ancora avete una visibilità online inferiore, ancora credete che avete un bacino di utenza, ma in realtà sono 50 persone, 100 amici. 100 amici fanno 2 euro su internet. I vostri amici è come un po', il parallelo si può fare con le condivisioni su Facebook, no? Se voi avete di un post 3 condivisioni, 4 condivisioni, 5 condivisioni, vuol dire che si diffonde un tot, ma non è reale. È come l'evento Facebook e voi dite, ah cavolo, al mio evento Facebook ci sono 40 partecipanti, poi quante ne vengono? 5. Perché uno è, addirittura è più difficile perché nel crowdfunding voi dovete andare online, mettere la vostra carta di credito, no? Dare da 2 euro, quanti euro avete deciso di chiedere, ora vedremo anche questo, è già un passaggio in più, non è il condivido o il partecipo è, metto i dati della mia carta di credito, che è un'altra cosa. Quindi le persone dicono, bravo, bravissimo, guarda, te li darei quasi ora, questi soldi, parliamoci chiaro, no? Tu dici, no, 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 io ho pensato questa campagna di crowdfunding su Apple, vai online. Sì, ora vediamo la carta di credito, no, vabbè, dai, la prossima volta che lo vedo gli dico, bravo, magari vado all'inaugurazione, però speriamo che ce la faccia a fare quest'opera, ma ce la farà, non lo so. Quindi bisogna un po', crediamo noi di Forward che per avere un'attrazione maggiore, che non significa solo avere, che non significa non vi sbagliate, fare cose commerciali, no? Che è un'altra cosa, bisogna seguire una serie di tappe. Allora, vediamo un po'. Allora, mecenatismo collettivo. Perché mecenatismo e perché collettivo? Allora, mecenatismo, sapete che cos'è, non ve lo spiego, no? Era un vero proprio sistema sociale di, come dire, di, direi quasi, userei un termine di padronanza, per cui i grandi, i grandi del Rinascimento e Giudì, e poi da lì di seguito, ma anche prima in realtà il mecenatismo viene proprio dai romani, dall'antichità, finanziavano grandi artisti, ripeto, finanziavano grandi personalità, piene di soldi, finanziavano grandi artisti per fare grandi opere all'interno di grandi piazze. Non è una cosa che a noi interessa oggi, no? Quindi, mecenatismo collettivo, anche qui, dà l'idea che non facciamo qualcosa di elitario, ma facciamo qualcosa di socialmente condivisibile, eh? E quindi socialmente condivisibile. Mecenatismo collettivo è una scelta nostra perché il termine micromecenatismo, quello che si usa oggi, cioè, che è differente anche qui da crowdfunding e perché ve lo spiegherò, è qualcosa di micromecenatismo, suona veramente una roba un po' quasi negativa, il micromecenatismo sembra qualcosa di cospiratorio, no? Che noi andiamo lì e mettiamo così, eh? Vabbè, no, quindi, mecenatismo collettivo, chiamiamolo com'è, perché a noi interessa il succo, cioè il sostegno degli artisti, a noi non interessa se è micro o alla fine macro, perché la vostra capacità dovrà essere, lo vedremo nel prossimo slide, anche quella di avere un bacino di utenti del vostro progetto, un bacino di sostenitori, ma poter pensare di, con questo bacino di sostenitori coinvolgere anche altri sponsor, che non sono da vedere come dei grandi padri dal cui seno nutrirsi, ma solamente dei coproduttori nel senso di persone, istituzioni che vi aiutano. Noi come Forward crediamo sempre che, per esempio, l'uso del pubblico inteso di, come istituzioni pubbliche, deve essere semplicemente un uso di apertura degli spazi. Cioè, voi dovete pretendere che lo Stato, comunque le istituzioni, vi aiutino ad aprire uno spazio. Poi quello che ci mettete, cosa fate lì dentro, deve secondo noi essere una unione di forze che può anche prescindere dai soldi. Guardate che io faccio, vi farò l'esempio di Firenze. Noi abbiamo fatto un progetto che è andato a buon fine, perché poi non sempre i progetti di Rotan li vanno a buon fine. Il 90% dei progetti non vanno a buon fine in Italia, il 50% in Stati Uniti, poi vi spiego anche perché. Ecco, quei progetti sono andati a buon fine, sono andati a buon fine anche grazie a cosa? Noi abbiamo fatto un progetto, uno spettacolo, sulle sponde del fiume Arno, che è il fiume di Firenze, famoso fiume manzoniano, se noi non avevamo un sponsor virtuale che era il Comune di Firenze che ci, come dire, apriva questi spazi, la provincia di Firenze, il Comune di Firenze che ci consentiva di installare un'opera sui due argini, noi avremmo dovuto pagare milioni di euro, l'artista avrebbe dovuto pagare, e noi quanto curatori di questa cosa, per fare fare una cosa del genere. Quindi, se voi un giorno avrete, come dire, l'idea, e spero di sì, dopo questo incontro, di lavorare su una piazza della vostra città, che sia Lecce, che sia Bari, che sia appunto Palagiano, ecco, cercate il più possibile di coinvolgere le istituzioni nella apertura, nel consentimento, nel taglio di cavilli burocratici, è quello che fa il Comune. Ecco, la parte economica viene dall'altra parte. Beh, che produce e promuove, mi sembra chiaro, nel senso che l'idea di Forward è quella non solamente che un artista fa una cosa, ma che un artista ha una linea, che un artista ha un seguito. I nostri, l'idea di sostenitori che noi abbiamo, non è quella dei sostenitori una tanto, per questo anche l'elemento formativo. Cioè, se voi riuscite a agganciare il vostro laboratorio, chiamiamolo così, il vostro studio, a un gruppo di persone che vi seguono, e che magari possono essere anche i donatori, cioè che iniziano donandovi qualcosa, voi in cambio di questa donazione date un'esperienza di apertura formativa. Dite, questo è il mio studio, io faccio così, queste sono le mie tecniche, vi assicurate non solo quell'opera lì, ma il proseguo del vostro lavoro, che per noi è più importante. Il processo di Forward così promuove gli artisti, non solo banalmente trova i soldi. I progetti per Forward, perché funzioni in crowdfunding per l'arte devono essere site specific, cioè devono essere pensati per uno spazio, che sia i due argini di un fiume, un po' ambizioso in effetti, ma anche lì, che cosa succede poi lo vedremo, cioè come ci si allea e come si radicalizza il nostro progetto. Non pensate di fare progetti per la piazza centrale di Bari, ma magari avete la possibilità di iniziare su una piccola piazza, oppure di iniziare su una piccola idea che può poi diventare grande. Penso a un cd, un cd di musica non ha una site specificità, possiamo dire, una specificità, però perché no? Può essere un progetto di musica che nasce dall'ascolto della parlata di un paesino qui vicino e da lì cosa avete voi? Avete una comunità di riferimento, che è quel paesino, tutti i nipoti di quei nonni che parlano in quella parlata, voi lavorate su quel territorio, voi vi assicurate un'attenzione diversa, piuttosto che fare un cd su le parlate della Puglia. quel progetto lì non è un progetto site specific e avrà possibilità di successo sotto zero, a meno che appunto non abbiate amici, parenti nelle istituzioni, e allora forse qualcuno il progettone sui dialetti del mondo ve lo sostiene. Quindi noi qui andiamo invece con le nostre gambe. Bisogna andarci bene però, non bisogna pensare di essere automaticamente dei geni soli, solitari, per cui no? Insomma ecco. Quindi cerchiamo di fare qualcosa che sia anche democraticamente parlando per tutti, per chi lo fa e per chi lo riceve. Vabbè, territorio non ve lo commento, è legato al tema del site specific. Tematiche salienti, sono quelle tematiche, per noi saliente vuol dire qualcosa di importante per un territorio, ma è importante in quel momento. Anzi, se voi la vostra opera, l'agganciate, la vostra richiesta di finanziamento dal basso, l'agganciate a un evento, qualcosa che possa essere nel tempo importante. Faccio un esempio grande. A Firenze c'è l'anno dantesco, a Firenze c'è l'anno del 200 anni, sì, 200 anni dal capitale, Firenze capitale. Magari questo è un progetto un po' ambizioso, però ecco, è una ricorrenza che vi aiuta nella promozione. Voi dite, io per questa capitale, Firenze capitale, faccio questo progetto in quel momento, in quel periodo. Ecco, l'importanza sarà importante molto anche temporizzare un progetto. Non dire una cosa, io come artista, ci sono spesso, se voi andate, guardate nelle principali piattaforme di crowdfunding, ci sono progetti che hanno 10 euro, perché magari la nonna, lo zio, no? Qui dice, io come artista voglio iniziare un progetto sul tema dell'anima, fino da qui, fino al 2000, non lo so, no? Oppure, quelli sono progetti che non funzionano, perché sono progetti non solo ambiziosi, ma non hanno un tempo. Ricordate, quando si dice il tempo è denaro, nel senso, se noi, se io do, dono qualcosa per il mio progetto, devo anche capire quando finisce questo progetto. E quindi devo dare ritorno al tema del CD, perché è astratto, ma allo stesso tempo è un concreto, un CD è in realtà molto diffuso. Ecco, io dico, inizio a registrare questo CD a luglio e finisco a dicembre e sono già fuori con il CD. Questo ti permette di creare feducia anche in chi ti sostiene. Il crowdfunding lo vediamo ora, che cos'è in generale e lo riportiamo a questo. Qualità, sostenibilità e valore di impatto sociale. Per noi la qualità, principalmente, non è la qualità una tantum, ma è un percorso che l'artista può dare. Cioè, se voi siete un artista che ha fatto due, tre tappe, per noi già quella è qualità, perché non c'è uno standard universale, che cos'è la qualità, specialmente in arte che è estetica, il concetto, insomma c'è una serie di problemi, di cortocircuiti, non è la qualità dello strumento, la qualità del frigorifero, questo va avanti dieci anni, allora è quella la qualità, no? La qualità ISO 2020. Qui invece la qualità è qualcosa che il vostro curriculum porta, in un certo senso. Se voi siete un giovane artista che ha fatto tre tappe, molto concrete, molto precise, quindi questo si ritorna al discorso di Valeria, più che al mio, quella per forward e per forward nel senso di qualcuno che deve poi proporgli questi progetti al di fuori dello scambio fra di noi, è importante. Quindi la qualità non è un concetto astratto, ma è un percorso, è qualcosa che tu dimostri anche in una maturità limitata nel tempo. Sostenibilità. Sostenibilità vuol dire fare progetti che siano appunto sostenibili, che non sono voglio fare il ponte che collega lo stretto di Messina, farlo tutto di legno, perché è una mia grande installazione e non me ne frega niente e mi ci vuole un miliardo, no? No, non mi ci vuole, vecchie lire, famose vecchie lire, un milione di... no, ecco. I progetti che più funzionano sono quelli, lo dico subito, che hanno un budget sostenibile che non può, almeno che non sia, anche qui tutti gli altri fattori, se si allarghi poi può essere allargato anche il budget, di, per esempio per forward intorno ai massimo 3.000 euro. Ovviamente se sei giovanotti e fai un cd con kickstarter, kickstarter è semplicemente il pane che metti nel panino. Cioè, giovanotti se fa una campagna di crowdfunding, sai quanti soldi danno? È paradossale tra l'altro, eh? Perché è una cosa abbastanza paradossale che qualcuno che ha già la possibilità di fare un cd possa farlo anche con il crowdfunding in maniera molto facile. C'è il caso di tanti registi che hanno fatto film con il crowdfunding, è un po' imbarazzante, perché non è il vero uso del crowdfunding, perché è un regista che dice, io, è quasi un favore fatto alla piattaforma. Se David Lynch mi chiama e mi dice, voglio fare un progetto con forward, è contento David Lynch o sono contento io? Sono contento io, perché è una promozione, no? Quindi in qualche modo si perde però l'elemento dal basso, l'elemento democratizzante, insomma, e quindi per noi la sostenibilità è importante. Progetti piccoli, che siano illustrazioni, che siano cd, che siano sculture, che siano performance, importante, ricordatevi, non sta parlando solo di prodotti duri, eh? Spettacoli. Quindi sostenibili e con un impatto sociale. Con un impatto sociale che individuano una comunità, la comunità degli anziani del paesino che parlano la lingua con quel suono lì, e nel caso di forward, chi frequenta il fiume Arno o anche chi non lo frequenta più però che abitano in quel quartiere lì, vicino, non so, potrei fare l'esempio anche di Livorno, non so, effetto Venezia, ha avuto successo anche perché secondo me il quartiere è stato coinvolto. Quindi l'impatto sociale è quello, ripeto, sociale per noi non ha il valore di qualcosa di necessariamente eticamente sociale, non è che noi facciamo servizio sociale. Il servizio sociale di un artista può essere più quello di ricostruire e ripensare una piazza, non di fare ovviamente i necessarissimi cose per i disabili, no? Voi non fate quello, ok? Non siete progettisti in quel senso. Però ecco, l'impatto sociale è importante. L'impatto sociale vuol dire appunto la comunità ancora, eh? importante, poi andiamo avanti, il ritorno. Il ritorno vuol dire appunto quello che voi date in cambio una volta che fate un progetto. Anche questo non è così scontato, perché addirittura il crowdfunding è una, ormai una nebulosa, diventato incontrollabile. Ci sono progetti di crowdfunding in cui non c'è il reward, cioè come tu doni. Vai bravo, no? No? Ecco, oppure quel banale, banalissimo, banalissimo reward, che è comunque quello più diffuso, di metto il nome. Cioè, sono un artista, è stato fatto anche dalla Biennale Venezia, non è stato fatto da, insomma, più facile trovarlo in queste grandi istituzioni. Che cosa fanno? La Biennale Venezia ha fatto viceversa nel 2013 il padiglione, non completamente, in realtà non è andata a buon fine. Non lo diciamo in giro, perché nessuno lo dice, però ha raccolto 170 mila euro e che cosa ha fatto? Voi avete dato, non so, c'erano delle cifre spaventose alcune, no? Però comunque vi metteva nel cataloghino, come dire, i nomi più grandi erano i sostenitori quelli e poi piano piano scendeva giù e voi magari eravate in fondo nelle istruzioni per l'uso, no? Cioè, e quindi c'era il vostro nome. Quello non è un reward per noi, per forward. Che cosa me ne frega di me? Cioè, può essere, può essere uno dei reward, cioè uno dei reward, uno dei premi che voi date è faccio un'opera, la metto online, online io scrivo sostenuta con grazie ai mecenati, però capite che non ha un grande valore, no? Come ritorno. Il ritorno materiale può essere, nel caso dell'arte, varie cose, dal cd alle opere multiple, se voi decidete di fare, può essere anche, come dire, incluso nel progetto. Se voi avete pensato di fare delle opere multiple della vostra opera, voi potete distribuire quelle, potete dire, io vi faccio una cartolina dell'opera, no? E ve la regalo, se mi date, e qui vedremo poi come farlo. Ma può essere, e per me è importante, e per noi è importante, anche formativo. Cioè, che vuol dire? Come dicevo, voi in cambio del sostegno date due ore della vostra esperienza. Cinque ore della vostra esperienza. aprite il vostro studio. Vi fate una lezione. Offrite quello che voi sapete fare, perché tanto, comunque, se chi vi sostiene, vi sostiene anche perché apprezza il vostro lavoro, sarà ancora più interessato a conoscervi, no? E a sapere, magari anche come avete lavorato su quest'opera. Ecco. Capite che, facendo così, si crea, e questo è importante, perché ogni cosa si collega all'altra, eh, in forward, si creano dei, chiamoli follower, no? Non si creano solo dei donatori. Cioè, tu non hai solo la nonna che ti dà 100 euro, invece di darteli per Natale ti dà per la tua opera 100 euro, ma è qualcuno che te ne dà magari due, e che magari anche lui vuole fare l'artista. Voi siete già un artista, perché avete già lavorato uno o due anni alla vostra opera, e lui ha idea di fare... Allora ti dice, magari io ti do questi due ore, tu in cambio, però, mi dai due ore della tua esperienza. E allora si crea, anche qui, una comunità di persone, fruitori, possibili potenziali artisti. Ricordatevi, gli altri artisti non sono dei nemici, ma possono essere anche degli alleati, no? E comunque si crea, si rompe un po' la nicchia, anche. La nicchia dell'arte, per cui va andata l'esposizione, ci sono solo i galleristi, i galleristi, i curatori, la 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 la, e poi rimanete sempre in questo limbo, per cui non capite più niente, no? È classico, succede in politica, c'è da tutte le parti. Ecco. Ecco, quindi poi vedremo queste scansioni, queste scansioni nel dettaglio. Allora, quindi, come funziona il crowdfunding di Forward? Allora, non lo leggiamo tutto, ma semplicemente vi spiego i tre elementi. Voi come artisti, come artisti, scrittori, dai pittori fino ai performance, gli artisti, sapete che può entrare tante cose, no? Presentano un progetto dettagliato, cioè, bisognerà vedere ora come si presenta il progetto, perché non è che io posso dire, vabbè, io ho il progetto di fare un'opera. Le Forward dici, sì, però, quanto ci metti, a chi ti rivolgi, eccetera, eccetera, quello che si è già detto. E vedremo, perché può essere utile quella scheda che vi farò vedere, su cui domani lavoreremo, che può essere utile anche in generale. Cioè, voi levate qualche elemento, perché molti elementi sono legati al crowdfunding, e potete usarla anche per lavorare. Il progetto deve avere ovviamente tappe, tematiche, impatto sociale, l'abbiamo già visto, lo ripeto, su un determinato territorio, allo scopo di concludere un artefatto, un testo, un'installazione, una performance, ma io ci tengo a precisarlo, anche una campagna culturale è per Forward un qualcosa di artistico. Se voi volete focalizzare il vostro lavoro sul lanciare una campagna, piuttosto che lanciare un'opera, diciamo, può essere, può essere rappresentato. Voi potete fare una manifestazione addirittura, una manifestazione per denunciare che, boh, non lo so, ecco, potete usare anche il Forward per sostenerla. I curatori qui, in realtà, io, Valeria e chi collabora con Forward, sono dei selezionatori, più che dei vericuratori. Certo, i curatori, come vedrete, avranno il compito di lanciare bandi e raccogliere opere e progetti e poi dopo dargli una cornice. Questo è importante. Infatti, se ci fossero stati dei curatori, oggi il compito qui di curatori è quello di pensare a un'idea che possono involgere vari artisti, qui, insomma, il modello si spande, e selezionarli, saperli selezionare e poi saperli poi rilanciare. Vedete che il crowdfunding, in realtà, non è il primo step. Cioè, è un elemento, è un po' il motore, no? Ma poi la macchina si crea di tante altre cose, di tante altre, credo, idee anche, no? Allora, i curatori selezionano, migliorano, perché l'idea è che Forward riceve i progetti, si interessa ai progetti e può anche suggerire dei miglioramenti sui progetti rispetto alle schede che vengono mandate. Avvia il crowdfunding dei progetti, promuovendoli, come Forward, con campagne online e offline. Allora, una cosa importante è che quando si parla di crowdfunding si parla sempre di online. Quindi voi pensate necessariamente io, per fare una campagna di crowdfunding su la mia statua, devo essere online sul pezzo tutti i giorni, a diffonderla online, perché se no, 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 la cosa più, quella che io chiamo ecatombe dell'online è che voi vi, cioè, veramente morite sull'online e fuori, nella realtà, non fate niente. Poi vedremo cosa fare offline, ok? Forward, questa è la prima descrizione di Forward, prima fase, prima tappa, eh? Cosa ha fatto? Forward può decidere anche di, come dire, giocare, bleffare in un certo senso, con un progetto, con vari progetti più facile, può decidere in secondo momento di interpellare degli sponsor. Sponsor magari, anche qui, legati ad un territorio, legati a qualcosa, non le borse per fare un'installazione perché c'è l'amico, il cugino che fa le borse, allora lo chiamo lui, no? Ci deve essere sempre un legame, no? Per questo dico, bisogna fare i buoni imprenditori come artisti, buono nel senso di, come dire, etinamente e socialmente, ecco, condivisibile e importante in questo senso, ecco. E qui, ripeto, i micromecenati finanziano i progetti con donazioni a quantità variabile, è importante, cosa vuol dire a quantità variabile? Che voi siete mecenati, ahimè, a vari livelli, non vi chiamate in altro modo, come alcuni fanno, ma a vari livelli voi donate 5, 10, 20 euro, 30 euro, 40 euro e dovete essere bravi voi artisti a pensare l'equivalente in premio. Ovviamente se voi mettete nel vostro progetto di crowdfunding per il vostro oggetto, per la vostra opera, che per donatori oltre mille euro si prevede una stretta di mano, mi sembra, insomma, che per mille euro io mi aspetto che come donatore possa avere, ecco, una presenza maggiore, no? Presenza maggiore. Voi potreste anche, e questo non è escluso, io parlo particolarmente, per esempio, come lo so, per le compagnie teatrali. Uno dei progetti che abbiamo fatto è con una compagnia teatrale di performativi, sono persone che lavorano più in arte contemporanea che in teatro in realtà, no? Loro cosa hanno fatto? Hanno messo fra le donazioni la possibilità di partecipare al workshop per la realizzazione del progetto stesso. Cioè, era un premio che tu ricevevi prima, voi potreste fare lo stesso, cioè, se voi siete, non so, volete fare un'opera collettiva, mi viene in mente di dire, oppure anche semplicemente attraverso delle narrazioni di qualcuno, non so, penso alla scrittura, no? Io voglio fare un'opera in cui narro il quotidiano, faccio un esempio semplice, il quotidiano di una persona X. Questa persona X, o 10 persone X, se tu doni 25 euro, io posso includerti nella mia ricerca, cioè posso usare la tua esperienza, questo è abbastanza radicale, capite? Perché è come dire, in qualche modo, vendere la propria vita, in un certo senso, no? Dire, io vengo, pago 50 euro, però tu mi devi inserire nella tua opera. Però è un po' così, voi potete fare dei reward, dei premi che iniziano prima, nella produzione dell'opera, non solo dopo, ma anche sulle spalle varie, ma anche prima. E qui si entra nel formativo, ovviamente, cioè se voi date a qualcuno la possibilità di fare, fate sharing, come si dice oggi, no? Della vostra opera, per qualsiasi motivo fate qualcosa di formativo, perché lui partecipa al vostro lavoro. Bene, io ho messo una cosina piccolina, ma quella possiamo anche non guardarla, ma la guardiamo. Che cosa fa Forward? Forward per tutto questo, una volta che il budget prefissato è raggiunto, trattiene una percentuale, variabile a seconda del progetto, noi abbiamo calcolato di solo intorno al 9-10%, se non meno rispetto, vedendo come funziona, per il lavoro ovviamente, e l'altra clausola è che per donazioni di un euro, vanno all'organizzazione, cioè se voi avete delle donazioni di un euro che non vengono poi investite, se il vostro budget finale non viene raggiunto, quelle rimangono alla, come fossero delle donazioni a un'ipotetica associazione, per esempio, un sostegno. Bene, torniamo indietro. Abbiamo detto tante cose su Forward, io ho perso, però, ok, benissimo. Abbiamo detto tante cose su che cosa è Forward, ma che cos'è il crowdfunding? Forse non l'ho detto, anche se penso che voi bene o male lo sappiate. Che cos'è il crowdfunding? Perché non è facile. Ok, quindi è una, prima di tutto è uno strumento, possiamo chiamarla una tecnologia, no? Il crowdfunding rientra in quello che è questa grande roba che è il crowd sourcing. Cioè il crowd sourcing è un po' quello che viene definita, una delle parti del crowd sourcing è la famosa intelligenza della folla, cioè tutti possiamo collaborare nel creare un qualcosa. Il crowdfunding io lo chiamo il figlio avido perché è quello che è la parte economica, è la parte in cui appunto noi andiamo lì e diciamo sì, però per fare tutte queste cose belle collettive c'è bisogno di un aiuto. Quindi qualcuno di voi dovrà, guardi nella folla e dici, qualcuno di voi ha dei soldi da darci? Banalmente voi entrate in una pagina di crowdfunding, penso a kickstarter, cosa avete? Avete i progetti, ogni progetto ha banalmente un video di presentazione, una breve descrizione, una tempistica, una favolosa barra che vi dice quante donazioni stanno procedendo rispetto, partendo il 15 luglio, siamo al 30 luglio, abbiamo ricavato 20 mila euro. Dobbiamo però arrivare, attenzione, a 35 mila e sta scadendo il tempo, no? Voi vedete questa barra. Questo per fare un po' di refresh di quello che già fa, sapete, no? Poi che cos'altro? Bisognerebbe analizzare, ma non ne abbiamo il tempo, cosa fanno le piattaforme crowdfunding? Cioè non tutti i progetti che voi mandate sono in prima pagina, per esempio, no? Le piattaforme lì sono un po' variano, no? O scelgono per un principio sociale, etico ancora, no? Il progetto più interessante, poche fanno. O scelgono i progetti che sanno banalmente che avranno più ingresso. Perché? Perché la piattaforma si trattiene una percentuale del ricavato. Non tutte, eh? Non tutte. Non si sa come facciano ad andare avanti, vedremo un po'. Il crowdfunding è iniziato molto con i brevetti, software, cose varie. E non è, ripeto, mai stato pensato all'inizio come micromecenatismo. Cioè, per quello lo dico sempre, il crowdfunding è solo uno strumento. Perché in realtà non esiste il crowdfunding per l'arte, ma all'inizio della storia del crowdfunding, ok? Come tutte le cose nascono prima per cose come internet, che è nata come servizio militare, come l'intelligence militare, poi è diventata roba anche, no? Gli artisti, noi artisti arriviamo sempre un po' dopo, però sappiamo sfruttare, no? Quello che ci dà un po' come la pop art, sfruttava qualcosa e poi lo rivitalizza, no? È come certi artisti che la televisione è nata prima e l'hanno poi rivitalizzata dopo, ecco. Quindi bisogna capire come anche qui. Quello che c'è sempre, appunto, ricordatevi, è un video. Un video in cui, anche nei progetti di Forward, voi spiegate la vostra opera. L'elemento personale è sempre importante, secondo me. Cioè, l'elemento di io mi metto in prima linea, io metto la mia faccia. Quindi se un giorno voi dovrete preparare una campagna di crowdfunding, fatela come una sorta di intervista. non, e qui rientra ancora una volta Valeria, non, diciamo, arrogante, nel senso di io sono il migliore artista della piazza, se non mi date questi soldi, veramente, anche perché c'è di mezzo non solamente la vostra faccia, ma anche i soldi. Quindi queste due cose assieme, insomma, state attenti. Ecco, ancora di più, ancora di più, se in un curriculum bisogna stare attenti, quando andiamo su un video a mettere la nostra faccia, chiedere dei soldi. Ovviamente questo è ancora più difficile. Quindi magari, che ne so, un video standard che un artista potrebbe decidere di fare è far vedere il proprio studio, far vedere dei bozzetti, dei materiali iniziali, qualcosa su cui state già lavorando. Queste funzionano abbastanza. Cioè, se voi avete un progetto, 40 illustrazioni, no? E voi siete alla decima e avete bisogno del... quello... perché? Quella è la qualità. Perché voi state dimostrando che avete un percorso, che avete già iniziato qualcosa e che avete semplicemente bisogno di finirlo e che lo state condividendo. Il crowdfunding funziona anche se voi avete, ahimè, crowdfunding generico, stiamo ancora sul generico, siamo tornati, siamo partiti da il forum, ora torniamo, stiamo sul generico, eh? Attraverso campagne, come detto, non fossilizziamoci solo sul online. L'online non funziona. Le campagne di crowdfunding che funzionano online sono solo quelle di giovanotti, per intenderci come categoria. Perché lui su Twitter già 500 milioni di follower, che cosa fa? Basta che twittano in 500, è già diffusa. Ma molte campagne di crowdfunding, non le vostre, parliamoci chiaro, non la mia, non il forward, magari, a volte, hanno dei testimonial. No, a volte, però può essere utile. Consideratelo. Cioè, se voi credete che la vostra opera è, come dire, sponsorizzabile da un personaggio famoso che voi conoscete, anche perché questo personaggio famoso magari dice due cose su quell'opera o su di te, magari che non dica, lo conosco, un bravo ragazzo, no? Che dica qualcosa un po' di più, credo in questo progetto, voi avete molti più donatori, però è difficile conoscere VIP. E non è bello, cioè io non lo devo dire, perché è un po' bleffare, è un po' come conoscere la mia regione. Ok? Quindi partiamo da un livello zero, in cui tutti siamo. Va bene, quindi, però, se voi vedete, per esempio, le vedremo, alcune campagne di crowdfunding che sono andate in porto, certo, c'è Patty Smith, va bene, allora, è un megafono, però pensate, pensate, quando voi vi mettete a buttare giù un progetto di crowdfunding, a questi megafoni, perché sono anche importanti, eh? Sono anche importanti. Il crowdfunding, il crowdfunding ha questa peculiarità. È iniziato come un procedimento all or nothing. Cosa vuol dire? O raggiungi il tuo scopo di avere 3.000 euro, oppure, arrivederci, questi soldi non te li diamo, ritornano. Non so se questa cosa era chiara a tutti. Cioè, se voi donate, e, come dire, donate per una cosa che deve avere un budget massimo per realizzare di 3.000 euro e non lo ottiene. L'artista, l'amico, eh? Non ha quei soldi e voi li riceverete indietro come donatori. Così voi, come artisti, non riceverete niente. Questo modello, però, in realtà, c'è chi ne fa meno. C'è chi dice, mettiamoci 3.000 euro di budget e allora, eh, se sono 2.000 vediamo un po' che succede. Altri fanno un'altra cosa. Superano il budget e le piattaforme di crowdfunding trattengono una percentuale maggiore sul successo. Insomma, ci sono vari modelli crowdfunding. Eh? Uno potrebbe anche dire banalmente, no, donazione su progetti, senza metterci arte per il momento. Eh? E poi, lo learn nothing o tutto o niente non è sempre applicato, in realtà. I premi, i reward in queste cose, in questi crowdfunding generici, sono sempre molto banali e poco pensati. Sono sempre molto, ho fatto l'esempio prima, non dovrei dirlo, ma, insomma, sono sempre molto, ti do una copia del cd. Sono sempre molto, eh, hai occasione di avere un pezzo di qualcosa, banalmente. Materiali, sono molto materiali, eh? Quasi mai sono formativi, anzi mai, anzi mai, anzi mai, eh? Un direttore di cinema che fa un film grazie al crowdfunding, se voi andate a vedere, non avrà mai tra i sostenitori, chi riceve come premio, ti do due ore del mio sapere per un incontro. Perché magari sono persone che dicono, voglio fare il mio lavoro, che me ne frega, io lo faccio perché è figo fare le cose con il crowdfunding, mi hanno detto a tutti i miei amici che funziona, però non lo farà mai. Voi avete la possibilità invece di farlo. Cioè, l'artista contemporaneo ha la possibilità di dire, apro il mio studio. Eh, quindi, eh, lo so, è una delle reazioni di molti artisti, è quella, purtroppo, del, madonna, quanto lavoro, quanto lavoro ci devo fare per fare un'opera? Non solo devo fare l'opera, devo produrla, è tutto, no? Vabbè, me la produci te, però devo farla materialmente. Ma dopo, quando l'ho finita, devo anche aprire il mio studio perché qualcuno venga magari a disturbarmi. Sì, però, insomma, questo qualcuno ti ha aiutato. Quindi, ritorniamo a un elemento anche sociale, in questo senso, di scambio, che è eliminato, azzerato in tante, tante piattaforme. Allora, questo possiamo andare avanti, insomma, questo vi dico semplicemente quali sono i siti. Voi andate come esercizio, se volete, dopo stasera o anche domani. Andate a, come scusa? Andate a guardarvi questi siti e poi commentateli rispetto a quello ci siamo detti oggi. Il primo, il più importante, anche se non è il primo, però oggi è Kickstarter. Kickstarter ha la peculiarità di essere fortissimo e di essere solo americano. Se voi siete un artista italiano, non potete presentare il vostro progetto su Kickstarter. In questo senso c'è il più europeista Indiegogo. Indiegogo ha questo nome figo, Indie, quindi magari può essere più appealing di un Kickstarter, però non ha in realtà solo questa idea Indie. Però lì, ecco, su Indiegogo trovate case editrici che vogliono rilanciare il loro catalogo, libri, progetti di libri, progetti di festival. Vedete già, anche qui, anche nel generalista, quante sono le possibilità. Non solo il CD, non solo l'opera, non solo la macchina che va con olio di semi di girasole, ma, brevetto quindi, ma festival, cose, diciamo, di organizzazione. Io prima ho detto campagna culturale, perché si prevede che Forward sia più legata a un artista piuttosto che a un'organizzazione. Se tu sei un'organizzazione, perché ti rivolgi a Forward? O meglio, rivolgiti, però in quel caso sarebbe diverso. Se tu sei un artista, cosa puoi fare? Una campagna culturale. Interessante è che ci sono delle piattaforme di crowdfunding che vi permettono fino a costruire, a piantare degli alberi. C'è una famosa funding tree che voi date dei soldi e, in qualche modo, voi vedete crescere come, in certo senso, è un po' l'idea dell'adozione a distanza. Voi date dei soldi per far crescere, invece che un umano, una pianta. Ovviamente che cos'ha la pianta? Ha un valore, bla bla bla, di ecologico anche, perché più piante, più ossigeno, più l'aria è pulita. Una grossa campagna di crowdfunding potrebbe essere non farlo solo in zone disboscate per malaffare cose varie, ma farlo anche nelle città. Farlo a Firenze, farlo a Milano, forse ce l'ha più bisogno, ogni cittadino, se dona questo, ha un albero piantato. Da un lato c'è il modello più di business, di brevetto, il modello indie e il modello eco-eco, ecologico, eco-solidale, eccetera, tutte cose che poi, insomma, a volte sono più degli specchietti, no? Però in questo caso sono molto serie, eh? Il funding tree è un esempio. In Italia c'è, in realtà ci sono non poche piattaforme. Ora, se andate all'estero, in America, è un casino. In Italia le più famose, appunto, Produzioni dal Basso, Produzioni dal Basso è la prima, non è la prima, però è una delle prime di successo, generalista, underground, gratuita, cioè Produzioni dal Basso non tratteneva nessun tipo di fee, nessun tipo di quota su quello che voi ricevevate. Qual è il problema? Andavano avanti perché era un progetto, diciamo, quasi informatico in un certo senso, quindi non lo so, sinceramente, ma andavano avanti. Però, ecco, quello che mi premeva a dire è la fee, quella che può sembrare una cosa che dici, ah, ma io sono una cosa online, ma perché mi trattieni anche qualcosa? Allora mi apri il mio blog, metto il Paypal, no? Ecco, quello che non faceva Produzioni dal Basso, che non fanno tante gratuite, all'apparenza sono belle, no? Perché è gratuito, bravo, bravissimo, poi Produzioni dal Basso c'è anche un bel nome. E quello che non fanno è tutto quello che vi ho detto, cioè la parte promozionale, la parte di inquadramento, la parte di selezione. Quindi voi vi trovate in un calderone di roba che, ah, sì, non prendi niente, ma è ritornato sul vostro blog allora a quel punto, no? Siete in un mare di tante cose. All'inizio può andar bene, cioè, all'inizio io credo che Produzioni dal Basso, che comunque è una piattaforma rispettabilissima, e altre, funzionano perché siete dieci progetti, avete la fortuna di accedere, ma quando dopo tanti anni, 2005, dopo tanti anni c'è tanti progetti, se la piattaforma non ha un sostegno, ora io non ti so rispondere alla domanda come si sostengono, sinceramente. Sono gratuite nel senso che non sostengono niente. Come puoi pretendere che possano promuoverti? Per questo dico Forward produce e promuove, ok? E vedremo anche come. Ok, le altre sono più o meno, ecco, simili. Apple è la prima, forse, matura, matura di crowdfunding, che si rifà al modello di Kickstarter. Cioè, lo riprende comunque, insomma, ecco. Una che va molto forte ora è il MusicRazer, MusicRazer di Musica. MusicRazer è una piattaforma online di crowdfunding per progetti musicali. Vedete allora che succede? Ci sono piattaforme generaliste, piattaforme equo-etiche, in cui addirittura potete piantare un albero, e piattaforme specifiche, assolutamente specifiche. Non c'è qualcosa che stia un po' a metà, non c'è questo senso. Cioè, MusicRazer solamente se sei musicista hai questa possibilità. Che succede? È buono da un lato. Perché? Perché chi va su MusicRazer a guardarsi i progettini e a pensare di sostenerli è una persona interessata già alla musica, quindi lo focalizzi. Noi stiamo dicendo con Forward che voi come artisti dovete focalizzarlo prima voi, ma non focalizzarlo su un genere, focalizzarlo più sull'aspetto dell'impatto che ha il vostro progetto su un territorio che è diverso. Altrimenti uno avrebbe fatto il crowdfunding per i pittori, il crowdfunding per i performer, che avrebbe avuto meno successo ai musicisti sicuramente, perché la pusia bene o male ha un pochino più di bacino. MusicRazer però, se voi andate a vedere MusicRazer, anche lì, che cos'è la differenza? È che la differenza è, ci sono tante differenze, ma su MusicRazer trovate, che ne so, un pezzo di un album che un artista vuole realizzare e quindi materialmente voi avete qualcosa, perché un musicista sta lavorando a un progetto e fa vedere un pezzo. E magari ha un amico e gli aiuta a fare il video e fa una specie di video e dite, ah, se vuoi continuare a sentire pezzi come questo, aiutami. Oppure, e quindi è un pochino più immediato, più diretto. L'altra cosa è che anche lì ci sono sponsor. Arriva Ligabù e dice, questo giovane ragazzo della Romagna è bravissimo, ha solo i vent'anni, ma fa dei pezzi della Madonna, sostenetelo. E poi la musica, c'è anche un'altra cosa. Live. La musica ha tanti live. Artisti, i live non ce li hanno. Cioè, gli artisti o stanno nel loro studio o espongono. Non c'hanno il live, per dire... A meno che non sono performer, è successo per il progetto di Kinkaleri, di questo gruppo che vi farò vedere, che praticamente loro diffondevano la loro campagna anche alla fine degli spettacoli. Che è una cosa interessante, no? Un po' ibrida. Cioè, alla fine di uno spettacolo appariva, no? Se vuoi spettacoli come questi, ma se tu sei un pittore, come fai? Perché noi stiamo parlando di una promozione che non è una promozione di andare porta a porta. Questo è il punto. Cioè, se tu sei un pittore e vuoi sostenere la tua campagna di crowdfunding, andare alle inaugurazioni con un bigliettino e darlo a tutti, non funziona. Perché non attrae. Perché è pubblicità porta a porta. Questo non vuol dire che biglietti da visita, presentazioni fatte bene, come diceva Valeria, non servono. Anzi. Però, pensatevi, appunto, già avete il vostro biglietto da visita, poi in più date. No, guarda, io tra l'altro sta facendo questa cosa. No, non funziona. Abbiamo visto che non funziona. È più utile quello che vedremo. Eh, si parlava di crowdfunding per l'arte. A questo punto, ora ritorniamo a quello di prima, no? Vediamo queste tre campagne di crowdfunding che hanno avuto successo. La prima, la più famosa, che ha rilanciato il concetto di micromecenatismo, è quella del Louvre. Il Museo del Louvre nel 2010 ha usato il crowdfunding per comprare un'opera, le tre grazie di Kranach. L'ha avuto successo, ovviamente, ha avuto successo e quindi l'hanno comprata. Il secondo, ha avuto meno successo, io prendo solo tre esempi, ce ne sono diversi, in Italia, il curatore della Beninari di Venezia del 2013, d'arte, a viceversa del Padiglione Italia, ha pensato di lanciare una campagna di crowdfunding per sostenersi. Ora, mi dirite voi, ce n'è bisogno? Non lo so, ora, questo poi ne riparleremo ora, fra un po', ma appunto ha raccolto 178.562 euro per sostenere la produzione, il fi degli artisti e la comunicazione. Cioè, ha detto, questi sono gli artisti, questi sono il curatore, quindi questo sì è un'applicazione sempre la biennale, anche questo, insomma. Non stiamo parlando di un curatore qualsiasi, non stiamo parlando di una situazione assolutamente concreta, stiamo parlando di una situazione ideale, tu sei il curatore della biennale di Venezia, hai un megafono enorme e fai questa cosa per sostenere la produzione, il fi degli artisti e la comunicazione. Bene, la cosa che stonava, secondo me, un po' lì era, però anche utile, perché era un elemento creativo sfruttato male, del distinguere i nomi, dare nomi differenti ai sostenitori, che è una cosa interessante. Cioè, nel senso, tu non sei donatore 1, donatore 10, donatore 20, donatore 100, donatore 50, donatore gold, no, non è che c'è una card come al supermercato. Però loro dicevano, se tu dai 5 euro per questa cosa, ti chiamiamo believer. Se tu chiami, se tu dai 10 euro, ti chiamiamo un sostenitore. Poi, quelli più bravi erano i paladini, i paladini e i mecenati. Ora, è bello, secondo me, essere creativi anche nella struttura. Ripeto, gli artisti sono bravi nel prendere una tecnologia che è nata per far andare una macchina e farla andare su una luna ideale, no? Nel senso, ricordatevi di questo. Io vi dico sostenitori, ma voi potete dire anche angeli, amici, no? Potete anche trovare una struttura che ha dell'artistico anche. La cosa brutta è che i mecenati erano solo alla fine. Cioè, si riproponeva, con tutto rispetto parlando, un'idea di mecenatismo socialmente antica, rinascimentale. Rinascimento, grande produzione di arte, ma non di tutti. Gli atelier degli artisti, sì, ma si parla sempre di artisti avevano sostegni di grandi doji, di grandi personalità, signorie. Quindi, in qualche modo, aprivano, però poi dopo, no, no, i mecenati sono quelli che hanno dato più di 1000 euro. Gli altri sono semplici sostenitori. Questo era, secondo me, un elemento un po' negativo. Non so se siete d'accordo. Per noi, il mecenate può essere anche il mecenate di 5 euro. Poi ce ne sono altri che tuttora sono in corso, alcuni di questi. Sono il Made in Cloyster, Made di Cloyster, con un gioco, boh, boh, sono tanto bello, di restauro della chiesa di Santa Caterina Formiello di Napoli. La restaurazione della chiesa di San Francesco in Roma. E, ultimamente, una che ha fatto molto successo è Crazy for Pazzi, che è, appunto, anche qui vedete i nomi, sono degli slogan e vedremo come lo slogan è importante. Crazy for Pazzi, è uno slogan, è il titolo della campagna, per il restauro della Cappella Pazzi in Santa Croce a Firenze. Qual è la cosa che vi colpisce di più di questi cosiddetti crowdfunding per l'arte? Sono per grandi progetti? Sono per grandi progetti, di grandi, diciamo, di grandi curatori o... Di grande risposta. Di grande risposta. Di grande risposta. Perché ha successo questo tipo di crowdfunding per l'arte? Che non aiuta gli artisti. Perché, tra l'altro, se tu sei un artista selezionato alla Bignana di Venezia, non sei selezionato, no, sei selezionato da un curatore pre, no? Quindi, comunque, non è che sei lì per altre cose. Quindi, in qualche modo, il tuo lavoro d'artista non viene toccato dal processo. Non so se è chiaro questo. Cioè, te sei già stato selezionato. Ok? Non c'è scambio in questo senso. E poi perché ci sono la Biennale, il Museo Internazionale, il Louvre, il Louvre, se io credo domani fa un progetto di costruire la più grande banana gonfiabile del mondo, tutti, pur di... anche qui... pur di apparire nel sito internet di Louvre in piccolo, fanno questa cosa. Ok? Ci sono poi i luoghi storici. No? Tutta la retorica giustissima della restoration, cioè del restaurare un luogo storico. Elemento positivo? La comunità. c'è il fatto che i fiorentini donano per del Crazy for Pazzi, perché per loro avere la pella dei Pazzi restaurata è incredibile. Il chiostro dei Pazzi restaurato è incredibile. Mentre... però sono tutti... ovviamente poi c'era il discorso, per esempio, Made di Cloyster aveva, se non sbaglio, Patti Smith. Non so se Made di Cloyster o quello di San Francesco. Avevano Patti Smith, per l'esempio che faccio sempre io, no? Se tu hai Patti Smith, è ovvio che c'è un megafono, un megafono. Però siamo ancora a un'idea di macromecenatismo, di maccenatismo rinascimentale. Proprio perché voi, cioè, se avete la fortuna un giorno, se avrete la fortuna, io mi auguro che la Biennale di Venezia vi dedichi un pallidiglione solo per voi, no? E vi dica, va bene, allora si fa anche il crowdfunding? Tu cosa dici? Sì, fallo, fallo, va bene. Non ti tocca. C'è qualcosa che non ti tange in quel senso. Bellissimi progetti, ma ancora non servono agli artisti per crescere, ai curatori per selezionare, ma anche loro per crescere. Perché se noi creiamo un meccanismo di ricezione di progetti e vediamo quello che succede e le idee degli artisti, anche come curatori tu puoi crescere in questo processo. Non è che arrivi alla Biennale, già selezionato giustamente per le tue qualità e fai. Non è bello, diciamo, lo posso dire, il crowdfunding quando è un motore fine a se stesso, un elemento accessorio. O addirittura un elemento di moda. Attenzione, eh? Per questo, secondo noi, bisogna fare progetti che abbiano tante caratteristiche che vedremo in dettaglio, che l'abbiamo già visto, però comunque le ripeteremo un po'. Ecco. Quindi ricordatevi che questo crowdfunding serve all'arte, serve alla Cappella dei Pazzi, serve alla Biennale di Venezia, ma non serve agli artisti. Io farei una pausa, però se volete continuiamo in realtà. Avevo previsto una pausa. Volete fare una pausa? Pausa? Eh, infatti, perché ho visto che con Valeria siete andati giù duri, però... Sì, sì. Sì. Sì.